Continua ad allargarsi il progetto che coinvolge i giovani da parte della sportiva Basket Sondrio. Bambini delle scuole elementari vengono avvicinati al gioco attraverso un approccio ludico e intelligente. Questa mattina al Palasceghi di Sondrio quasi un centinaio di bambini hanno invaso la palestra e hanno praticato diversi giochi agli ordini di Simona Cao, istruttrice di basket. Con le nostre forze o con l'aiuto di altri enti riusciamo ancora a entrare nelle scuole a portare questo gioco meraviglioso. Divertimento, allegria, spensieratezza hanno contraddistinto i bimbi che hanno vissuto questa mattinata di sport. Anche le bambine hanno dimostrato di apprezzare la pallacanestro. Sono stati effettuati giochi di vario tipo, con o senza palla. Altre iniziative di avvicinamento alla pratica della pallacanestro sono in programma per quanto concerne la sportiva Basket Sondrio. Il 13 aprile tornerà Pink Day, giornata del basket in rosa, dopo il successo riscosso nella prima edizione. Un appuntamento concepito per avvicinare alla disciplina sportiva le bambine dai 6 ai 10 anni. Si tratta di un'altra idea pensata dalla società del capoluogo per coinvolgere maggiormente il settore femminile, che negli ultimi tempi sta crescendo non solo a livello di numeri, ma anche di risultati.